buongiorno a tutti ragazzi ha detto in un breve filmato oggi ho deciso di fare un appello approfittando del fatto che sono anche un personaggio pubblico ho un grande desiderio un grande sogno nel cassetto quello di iniziare una nuova carriera come allenatore naturalmente ho il patentino ufa b ci tengo a precisarlo dal 2006 posso allenare in promozione eccellenza serie d per inseguire il suo grande sogno a ruta sarebbe disposto anche cambiare città io vivo in puglia ma mi posso spostare in qualsiasi regione d'italia vi auguro una buona giornata e spero in tantissimi messaggi in privato grazie a tutti grazie a tutti